Buon salve ragazzi e benvenuti a questo terzo giorno di testing delle nuove carte di Strix 7. Oggi vi propongo una variante di U.R. Fairies insieme a Popquiz e quindi parliamo di Popfairies. Perché giocare questa carta in patine? Beh è una carta che genera vantaggio instant, quindi una sorta di divination. In U.R. si è sempre giocata una carta come Frantic Inventory semplicemente per cercare di fare vantaggio, cosa che ad esempio U.B. faceva col Monarca, adesso attualmente giochiamo il Monarca Rosso il Commodoro, però comunque U.R. ha sempre necessitato di avere un qualcosa in più. Bene, in tal senso noi andiamo a tagliare tutte le carte che stanno sotto 8 da cimitero e andiamo a giocare una carta come questa. Anche considerando che U.R. ha la possibilità di giocare questa Lesson. Un semplice 4-4 costo 5 che vi assicuro che comunque spinge un pochettino. Considerate che U.R. è sempre stato un mazzo che non aveva un bit tanto serio. A differenza di U.B. in cui si gioca la Gurmag, U.R. ha soltanto come creatura più grossa praticamente il Ninja. Adesso è vero che il Commodoro è un 5-2 Trample, ma muore molto più facilmente di una Gurmag e comunque in alcuni matchup, come ad esempio contro Agro, non è facile appoggiare il Monarca. Pertanto un 4-4 può decisamente spostare alcune partite. In secondo luogo voglio provare Resculpt, perché ci permette di rimuovere magari una nostra creatura sotto removal per mettere in campo un 4-4. Ricordiamo che in Pauper un 4-4 è una creatura mediamente molto grossa. In più fa dei combat trick interessanti, perché ad esempio contro Agro, contro un mazzo come Stomp, mettere un 4-4 instant dopo magari aver attaccato con la fatina in combat può cambiare il board state notevolmente. In più questa carta esilia, il che ad esempio contro Trono permette di magari esiliare un Mnemonic Wall e quindi non potrà andare a riprenderselo e quindi luppare come al solito. Ha alcuni spot molto interessanti, infatti una carta che voglio provare in tre copie. Non è detto che questo sia il numero giusto, però quando andiamo a testare le carte è giusto metterne alcune copie aggiuntive per capire la reale efficacia della carta. Senza ulteriori parole vi lascio al gameplay di questo mazzo. Vi anticipo che ho vinto di nuovo un'altra tappa della Pauper Wave League, la quinta, e quindi ci vediamo lunedì prossimo e mercoledì prossimo con le partite commentate della Pauper Wave League. Allora, Seracchi, è stata una mano, è stata una mano, è stata una mano che ha un senso. Non velocissima come Manabase, però cercheremo di sviluppare il tutto meglio, quindi pam, gli andiamo, ok. Io qua faccio patch, patchiamo, terra, preordain. Sono tutte belle queste, top top. Ok, ok, dobbiamo riuscire a mettere un clock il prima possibile. Non è trono, fermi tutti. Non è trono ed è un idiota che ha tenuto monolanda. Questo muore. E passiamo. Questo lo conteniamo. Visto che ci siamo. Lenggrant. Ah ma è Elfino. Allora ha senso. Allora ha senso. Ok. E Jasper. Pam. Statter. Ottimo. Io qua però faccio... poi c'è un Elvis Vanguard. Facciamo brainstorm. Ok. Allora. In realtà da qui a me piace quasi tutto. metterei sotto. Mettere sotto... Mettiamo sotto 1 e 2. Facciamo. Prendiamo questa. Pam. Passiamo. Ok. Se fa Quirion, quella tipo subito va bene. Questo lo possiamo andare ad uccidere. Fa umana. Quirion, Ranger. Questa invece no. Ok. Come Fire and Dice non era male? Statter non la voglio. La Brainstorme sì. Non facciamo terra. Non facciamo terra. E da qui andiamo a togliere questo. E gli diamo un danno. Già che ci siamo. Sempre meglio di nulla. 19. Bene. Birch Lord. Yes. Tanto ne ha 2. Altro Birch Lord. Yes. Ok. Questo rimarrà stappato così non potremmo andare ad attaccare. Brainstorm. Che mezzo macello. Va bene. Passiamo. Dunque abbiamo un tot di counter. Quello non è un problema. Il problema è il fatto che... Non abbiamo nient'altro. E due terre in cima. Questo entra. Tanto lo possiamo uccidere. Bam. Ok. Terra. Almeno una la giochiamo. La prossima noi gliela riveliamo. Per rimanere branzalloccati. Non è proprio il massimo. Questo lo counteriamo. Abbiamo starter che però qua countera poi tutto. Ok. Passiamo. E vediamo di pescare un po' meglio il prossimo. Canterava tutto tranne quello. Tutto tranne quello. Va bene. Preordain. Intanto è una carta. Questa va in fondo. E questa risolve la Lissalana. E ci siamo tolti un'altra terra dalla cima del mazzo. L'ho fatto questo. Qua sopra. Qui. Le bellezze di Magic Online. Ogni tanto si pianta un po' a caso. Ok. Ora, se per cortesia tu pescassi qualcosa di inutile. Questo lo dobbiamo counterare. Ok. Abbiamo una carta a testa in mano. E... Boh, qualche terra ce la siamo tolta. Speriamo di pescare qualche cosa. Riscult. Riscult. Passiamo. Riscult in realtà può risolvere tipo un Timberwatch. Come mettere pressione dalla nostra parte. No. C'ha la Mellad in mano come ultima carta. Va bene. Va bene. Vorrei anch'io pescare qualche volta come voi. Riles of Titania. Io ci vedo un po' morti. Però... Facciamo un riscult su una Fairy Seer. Perlomeno mettiamo un 4-4. Auguri di Bolas intanto è una carta. Ah, Braid e Brainstorm. Però qua prendo a Braid. Se no ci distrugge. Togliamo Titania. E attacchiamo con un 4-4. Perlomeno un minimo di race l'abbiamo messa. foresta e questo va bene. Però ha 3 carte in mano. Ok. Non ha chiamato blu. Quindi non dovrebbe esserci un'altra Melody. Teoria. Ho semplicemente l'ha fatto per stappare. Tanto il blu ce l'ha dalla false. Quanti mana stai tappando? Arbor Elf. Va bene. Diciamo che G1 contro Elfi non è incredibile. Post side abbiamo Cannonate, Swirling Sandstorm. Oh, come pescate bene voi giocatori di Elfi. Come pescate bene. Va bene. Sì, 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 sì. Come pescate bene. Abbiamo un altro Resculpt che però non serve a niente. Quindi concediamo perché o gli metto un 4-4 in campo poi stappa con 8 carte in mano. Non è proprio il meglio. Abbiamo 2 Fire and Dice, 2 Fieri Cannone, 2 Swirling Sandstorm. Da qui ti andiamo a togliere tipo tutte le Fieri Seer. Almeno un Ninja. E mettiamo un Echo in Trat. Il Commodore in realtà ci può anche stare tenerlo. Sì, sì, sì. Va bene. Tra l'altro notare come Popquiz sinergizza un pelino con la Sandstorm perché possiamo non andare a prenderci la Lesson dalla side ma scartare la carta e quindi a costo 3 è instant mettere, cioè pescare 2 e mettere 2 carte al cimitero. Questa è una piccola aggiunta però da tenere in considerazione. Ok, ok. Cannonata, Kip. Ma qualcuno mi ha insegnato che Cannonata di terzo contro Fatine cioè contro Elfi sembra essere una carta forte. quindi pezzo va bene facciamo prendiamo Rosso c'è anche Ferendice passiamo e magari Cannonata ce la teniamo per dopo Titania questo mi sembra un ottimo momento per fare questo giochino qui molto bene molto bene terra preordain bottom top passiamo siamo open di starter allora ha una sola terra quindi questa starter counter tipo tutto bene 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 magari giriamo un ninja c'è risculpt però c'è risculpt brainstorm ma al momento non mi fa impazzire risculpt la prendiamo perché mette un clock e attacchiamo risculpt gli da pochi turni di vita ok e in più e in più manteniamo un pezzo comunque ah grazie che mi stappi la sprite molte grazie e scattershot arc risculpt e facciamo questa robina qui molto bene abbiamo addirittura augure di bolas swillning sandstorm sembra essere una carta e attacchiamo quattro pigne ok e tra tra una cosa e l'altra direi che qua ce la giochiamo molto 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 bene tra l'altro nessun nostro pezzo muore di fieri cannonade va bene noi ha cinque carte in mano comunque timber watch yes qua succederà un mezzo macello uno due tre fieri cannonade sbam gli togliamo colore timber watch quirion da meno ci proviamo ok va bene forse dovevo fare screddy in risposta però via timber watch e attacchiamo e lui comunque non è che si è messo proprio stra bene poi abbiamo anche sandstorm ok tappi due elvis vanguard va bene più un'altra sentinella va bene vanguard è comunque solo un 2-2 due carte in mano noi abbiamo counterspell e pop quiz ok attacchiamo lui a breve dovrà cominciare a bloccare se no non ne esce e intanto va a 7 va bene foresta tappi due tre timber watch anche no ok 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 qui andiamo a tirare pop quiz in hand se peschiamo terra la scartiamo se no prendiamo l'elementare dalla side quindi pop quiz va bene stappiamo e abbiamo pescato una fetch una fetch una fetch allora intanto attacchiamo vediamo se blocca decide di andare a 3 tiriamo brainstorm e allora cambia tutto cambia tutto dunque ninja non mi serve ma è neanche la terra mettiamo in cima counterspell e ninja e poi vediamo che cosa peschiamo cioè counterspell lo mettiamo in cima piuttosto non fecheremo ok molto bene molto bene molto bene si timber watch anche no e qua gli eldiamo a sto punto ci andiamo a pescare il counterspell che c'è in cima che direi essere un'ottima cosa ma a questo punto deve cominciare a bloccare tipo tutti i turni attacchiamo e almeno un pezzo lo dovrai immolare qua sopra se perde più di un pezzo andiamo ad appoggiare lui ok ok passiamo e intanto uno è andato va bene melody no non è vero deny zen ma non entra intanto noi qua abbiamo ninja lo fecciamo non mi serve e stappiamo spell stat cominciamo ad attaccare un pezzo di nuovo se lo deve immolare ok via lo scattershot e ne facciamo un altro bam prossimo turno sono due pezzi che si deve immolare certo certo ecco adesso lui un pezzo ce lo uccide con la vanguard si blocca anche con un altro però fa nulla facciamo tacchiamo tacchiamo uno due e va bene ok ok qua dovrebbe bloccare anche con questo va bene va benissimo e io mi ciclo un'altra trashbar mi tolgo un'altra pescata morta e passo tappa tre e concede bene bene ci sarà una lesson che ti fa tipo tappo tre concedo comunque molto bene molto bene la side data è giusta abbiamo un sacco di risposte post side ok allora doppio pop quiz più preordain e altre cose va bene ok e facciamo terra per ordain ottima l'altra removal davvero ottima resculpt per il momento non mi serve la terra neanche passiamo ok gli eldiamo la p2 titania che tipo dovrà morire il prima possibile più quillian ranger ok e qua poco da fare dobbiamo uccidere titania sperando non abbia hydroblast più eventuali altre cose ok questa cosa almeno non è successa prossimo turno riusciamo a stare open di scred più sprite o eventualmente pop quiz ok quattro mana timber watch e un'altra sentinella ok stappiamo terra scred su timber watch e qua se mi tira hydroblast abbiamo anche sprite ok su blue elemental blast morto timber watch e passiamo lui ha una carta in mano ma possiamo tranquillamente yieldare ok ok dimorfosi va bene prendiamo un danno counterspell yes ah se 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 molto bene molto bene adesso ci sviluppiamo mana base sviluppiamo tutto tanto siamo comunque alti di vite dove un po' di danni ce li ha sono quattro danni va bene va bene va bene va bene ok hai stappato la sentinella e basta facciamo pop quiz mi ha pescato un altro counterspell io però la terra la voglio quindi ci andiamo a prendere la lesson bene swirling sandstorm facciamo terra passiamo abbiamo quattro carte al cimitero cinque con pop quiz e vediamo che cosa succede prenderemo altri quattro andiamo a undici male che vada posso anche bloccare con la stack il prossimo turno se proprio è tiri qualcosa e che mica i counterspell fremono pop quiz ok ok no ci teniamo tutto il resto in cima cioè non stiamo a scartare nulla da questa mano cannonade cannonade passiamo ok va in combat picchia con tutto stavolta uno due tre cannonata molto bene e l'arcere e l'arcere bavo bavo stappiamo e facciamo un bel posso addirittura mettere l'elementale però per il momento preferisco di no mettiamo lui prendiamo braid e passiamo perché possiamo utilizzare prima la sandstorm nel caso quindi arrangergli e facciamo almeno un altro x per uno qua lui non può attaccare stappiamo ok facciamo sandstorm tanto sette carte al cimitero le abbiamo e passiamo lui ha due carte in mano e due foreste abbiamo sacco di removal doppio pezzo fire morti i due pezzi passiamo e un l'ennesimo due per uno certo certo facciamo che facciamo tre danni su sull'aquirion che rompe tanto le scatole nel caso terra e cominciamo ad appoggiare un pezzo un pezzo che faccia race qua facciamo non stiamo a perdere tempo a questo punto ok ok lead e stampid va bene vedete come helpi più o meno ci si tappa un turno riscolt al momento non mi serve ma brainstorm neanche ci si tappa un turno e elfi ti topdecka cose appoggiamo anche ninja attacchiamo di elementale ok qualcosa deve pure appoggiare tanto abbiamo removal nel prossimo turno stiamo open e facciamo cose va bene va bene quindi hai in mano dovreste avere soltanto timberwatch va bene facciamo vediamoci un'altra carta morta riscolt attacchiamo con entrambi i pezzi ok 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 ti portiamo via tutto va bene via questo ok tanto 6 a 12 3 turni 3 turni l'angorant yes terra e timberwatch a cui diciamo di no voilà ed è gg spell stutter sprite ok chiudiamo il prossimo turno chiudiamo decisamente il prossimo turno facciamo counterspell facciamo stutter facciamo riscolt su stutter e concede bam leo hardnut qualcosa allora questo è un mulligan e questo è un brutto keep che però si si è un keep abbiamo comunque un counterspell se peschiamo una patina abbiamo ninja keep e al momento togliamo ma togliamo questa ok palude va bene allora intanto c'è una removal va bene molto bene ok non va benissimo terra e passiamo ok bonder ornament questo lo dobbiamo counterare abbiamo anche braid però però passiamo non sapendo che mazzo sia braid magari lo teniamo peraltro ok cicliamo prendiamo blu terra e passiamo ok peschiamo altro riscolt va bene ok 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 non potevi farlo nel tuo snow covered mountain siamo contro jand siamo contro jand che non che non penso sia un matchup molto positivo soprattutto con questo tipo di partenza blightning no una una creatura una creatura mamma mia triplo riscult vabbè facciamo ninja che dobbiamo fare se magari non lo dovesse uccidere subito abbiamo riscult per mettere dei 4-4 ovviamente chainer va bene stappiamo una stutter wow wow tappi 4 che stai facendo turn of the black rose certo ok e noi facciamo stutter in hand stappiamo non volevo che mi tirasse tipo snap out vediamo se riusciamo a rubare la monarchia ok 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 e facciamo auguri di bolas che prende brainstorm che tiriamo ok mettiamo doppio riscult sopra fetch facciamo prendiamo blu e scred e qui mi ha aperto lui la possibilità di vincere questa partita cioè non è ancora detto però se la vinciamo è grazie a lui decisamente sarus pack mate ok preordain ci pensiamo allora qui facciamo indubbiamente questo muore direi che attacchiamo e facciamo ninja peschiamo una carta aggiuntiva e facciamo ferisir brainstorm in realtà per il momento la mettiamo sotto l'isola non mi dispiace la peschiamo l'isola non mi dispiace ok qua possiamo inchiodare lui è comunque inchiodato a poche lande noi cominciamo a avere un attimino di race dobbiamo stare attenti dal sesto mano in poi per va bene va bene tanto peschiamo comunque già più carte e forzold dobbiamo stare attenti a il boarding party e tutto il resto allora preordain questa va bottom questa va top purtroppo così non riusciamo a settarci il bolas per un'altra terra non la volevo bolas altre tre terre vabbè va bene così e attacchiamo sono comunque due danni ci siamo tolti quattro carte morte quattro pescate morte abraid bene bene molto bene molto bene e dobbiamo a un certo punto però aumentare la nostra race quindi con race cult ok vediamo che cosa casca fondere ornament va bene questo punto della partita va bene io qua faccio scred lì sopra risculpt qua mi metto un 4 4 e si saranno sei danni a turno avendo un'altra removal più cose varie facciamo brainstorm mettiamo in cima loro due facciamo preordain bottom bottom pop quiz attacchiamo con questi questi sono 4 5 6 danni e direi che passiamo altro risculpt però se mi fa dinosauro se mi fa dinosauro è un macello quindi spacchiamo spacchiamo bonder ok ok noi potenzialmente siamo monetari il prossimo volendo però vediamo che cosa succede 2 3 va bene va bene hai altri 3 mana bounce land ok appoggiamo un'altra sprite stappiamo ha concesso bene bene ok allora allora jand jand dobbiamo mettere le hydroblast perché uccidono il boarding party counterano blightening counterano cannonata che è una altra di scatole e io metto anche le sandstorm le sandstorm perché uccidono tutti i suoi pezzi proprio tutti qua andiamo a togliere almeno una fairy seer almeno un riscult lui gioca agli editti possiamo mettere anche ghast metteremo anche ghast togliamo un ninja un'altra fairy seer il resto è tutto più o meno forte forse fire and dice però fire and dice è forte per andare a tappargli il pezzo e fargli danni letali quindi per guadagnare tempo e in realtà anche sprite non è proprio incredibile se vogliamo se vogliamo se vogliamo in questo matchup però meglio di fairy seer togliamo un altro ninja e togliamo non togliere una sprite però post side in realtà ci sono le pyroblast che lui gioca basta e basta togliamo un'altra fairy seer giochiamola così ok allora questa è una mano che possiamo tenere questa è una mano che possiamo tenere ok terra passiamo andremo poi a ciclare lash burden per rosso auguri di bolas di secondo forza hold yes questa la cicliamo prendiamo rosso ok rosso abbiamo entrambi ghast parentise ok passiamo lui qua se ha verde fa su fa sarulis packmate se non ha verde io son contento tra l'altro parentise è forte anche sulle bounce immaginate che lui adesso faccia va bene non fa nulla è inchiodato di nuovo ma che mania hai tenuto che mani hai tenuto passiamo questa ce la sta un po' regalando in realtà ok chiama verde quindi fa il lupetto quindi si schioda un po' da questa situazione e io attacco e a questo punto in questo momento della partita faccio un altro di questi tanto comunque di quarto turno lui monarca non può farlo ed è la cosa più forte che possa fare per il resto dal prossimo turno possiamo uccidergli il pezzo open di counter e vediamo non male non male anche se dovesse fare tipo bonder abbiamo comunque braid se peschiamo tipo una terra stappata abbiamo anche counterspell andiamo avanti tappa 3 bonder ornament va bene e bounce land molto bravo molto bravo 3 danni li prendiamo con una certa gioia ok io a questo punto faccio brainstorm non c'è una singola terra mettiamo sopra ninja e mettiamo sopra risculpt e facciamo braid che rompe il bonder la race comunque dalla nostra quindi altri 4 danni vai a 14 prossimo turno scred più counterspell ok 2 3 4 5 mana cannonata va bene rientrano entrambi e chainer e chainer va bene ha comunque usato due carte forti va bene stappiamo e qua facciamo scredd lì sopra e attacchiamo per 3 mandandola 11 ok qua abbiamo comunque 4 danni in mano poi dopo peschiamo invece ninja vediamo che succede perché volendo potremmo quasi decidere di ma se io provassi a counterarlo questo che mi tiri va bene questo va bene 2 3 4 5 un'altra bounce land male vale 2 4 5 6 e ci sarà il settimo se no qua facciamo così va bene peschiamo di ninja va stiamo open di either blast ok e passiamo perlomeno gli editti torneranno ad essere un po' più scarsi a triplo chaner se no a triplo chaner triplo chaner è veramente forte fammi editto non mi pare dinosauro dinosauro va bene che casca l'anero partizionary va bene ecco diciamo che essere freschi vuol dire un'altra cosa indubbiamente quando janda arriva quest'umana noi poi non vediamo le terre non vediamo le terre è un disastro questo non vediamo le terre non vediamo le terre va bene vediamo che cosa succede perlomeno adesso gli editti i suoi editti sono scarsi però però lui è a nove si attacca col dinosauro ci accogliamo sei danni noi ci diciamo pescare almeno una terra potremmo dire ti tappo il pezzo pesco e vado alla ricerca di risposte con molta calma ma lui ha ancora quattro carte in mano blightening risculpt e e starter va bene il problema non è tanto le carte in mano due tre quattro port in parti più lightning bolt io sono a 6 gg gg è immeritata immeritata però va bene e niente allora dobbiamo vincere la prossima va bene allora allora queste mani queste mani io non le tengo mai ma lighiamo va bene e mettiamo sotto uno scred facciamo terramorfica qua dovremmo comunque chiamare blu per stare open di counter ok ok stappiamo preordain preordain è forte bolas anche ma 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 mannaggia mannaggia dobbiamo fare poi di terzo ci 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 fa di terzo noi dobbiamo rimanere open per forza quindi top top ma tanto poi andremo andremo comunque a fecciare quindi non possiamo fare altro vediamo anche che cosa fa lui eh però in linea di massima dovremmo andare a fecciare ok ok peschiamo terra e passiamo ok va bene 1 2 3 lightning ok e questo diciamo di no non possiamo permettercelo stappiamo preordain sandstorm adesso non serve e neanche l'isola peschiamo brailt va bene e il problema è che se entrambi cioè se lui flood lui vince noi non abbiamo una race non abbiamo nulla perfetto tutti i suoi pezzi fanno 2x1 fire ok mazzo grazie mazzo grazie forse ma il commodore in realtà ce l'abbiamo ancora nel mazzo però lui è già arrivato a 5 mana passiamo commodore numero 1 adesso basta che tira le carte a caso come strofinacci e tipo non perde più vabbè fieri cannone non fa nulla questo entra e muore e noi tiriamo pop quiz ok almeno almeno 1 2 3 e appoggiamo lui e passiamo lui sta passando non ha fatto nulla e vabbò io qua attacco metto un 4-4 in campo e poi dal prossimo proviamo a giocare di nuovo in risposta alle sue cose ma se non appoggiamo dei pezzi non vinciamo mai contro Jand non c'è veramente modo quindi andiamo di nuovo tappati oh qua c'è esatto un bellissimo cast down e poi tappa 3 pulso of murasa certo va bene certo party party che casca red elemental blast certo ok e ci accogliamo questi 6 danni andiamo a 14 il problema è che lui è tornato a 24 questo è un problema gigantesco vabbè facciamo così comunque e facciamo finta di avere un delver in campo quindi 3 danni sono solo 7 turni solo 7 turni in realtà se non tira un chaner ma tira tipo una removal secca mettiamo in campo un 4 4 chaner giustamente e non possiamo dirgli nulla proprio niente 1 2 3 4 e devo andare a canterare pure questo devo andare a canterare pure questo poco da fare se no proprio non c'è modo peschiamo qualche cosa no va bene ma anche una starter andava bene anche una starter ok ok hash barren mi servono mi servono i bolas mi servono i bolas da qui non sappiamo più nulla questo lo cantriamo di nuovo è che è che lui top deck a questi io top deck vabbè counterspell è stato comunque un buon top deck però questo è un problema questo è un problema è che lui ogni volta che pesca un cascante fa sempre un 2 per 1 tutte le volte un turno di niente tipo così una volta a caso una volta ogni tanto 3 blightning hydroblast va bene non esistono i turni di niente e passiamo anche perché dobbiamo tenerci perfetto dobbiamo tenercelo in mano per eventualmente una brainstorm doppia terra lui non ne sbaglia una non sbaglia una pescata va bene potevo forse andare a togliermi una terra aggiuntiva dal mazzo cicando l'hash bar ma cambia veramente poco peschiamo la terza terra di fila giusto giusto hai pescato una terra anche tu wow avrà solo removal in mano counterspell un altro babbo cioè sono carte forti per carità non mi fraintendete però il mazzo ha anche altre cose no per provare tipo a vincere per dain eh tipo più o meno così mettiamo bolas in cima ci peschiamo bolas non lo giochiamo ovviamente adesso perché in cima abbiamo il ninja prossimo turno proviamo ad appoggiare bolas e vediamo che cosa succede ok appoggiamo bolas vorrei appoggiare bolas prendiamo braid va bene premio della challenge comunque quello lo mettiamo in qualunque ordine va bene prego va va bene della braid l'abbiamo preso e staremo lì a guardare fin quando non tapperai 4 tanto mana ne abbiamo altra terra che fa sempre comodo attacchiamo di bolas facciamo ninja ci teniamo il doppio rosso per avere sia removal che braid che c'hai bolt c'hai bolt e io devo provare a dirti di no così non ho una statter tappi 3 cannonata 1 va bene va bene va bene se no metto metto il pezzo e mi distrugge lo stesso tanto c'ha c'ha chainer avrebbe fatto chainer adesso speriamo non abbia pescato un cascante questo turno e invece un altro questo è il quarto no è solo il terzo va bene vabbè intanto cannonata è andata facciamo lui prendiamo fire and dice e passiamo passiamo quel maledetto chainer è veramente un disastro veramente un disastro e tiriamo scred tiriamo scred ok 1 2 3 e facciamo pop quiz l'altro l'abbiamo già usato scartiamo qualche cosa in questo spot ma dio scartiamo fire and dice va bene altro scred e attacchiamo tutte le carte forti non le abbiamo ancora viste va bene a parte i 4 counterspell che però non avendo race non avendo nulla servono ben poco ok va bene ok ok e a questo punto facciamo starter e proviamo a fare così mettiamo un 4 4 in campo stappiamo starter attacchiamo perlomeno abbiamo un minimo di danni però il commodoro mannaggia la miseria il commodoro va buono va buono il commodoro la 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 il commodoro ok eh questo cast down è stato tipo un 2 per 1 abbastanza pesante ninja beh dai almeno ninja è una carta andiamo in fase dei bloccanti tiriamo ninja perlomeno sia bolt o pyroblast abbiamo starter almeno questa sperando non ci faccia un'altra cannonata e lui invece ce le ha tutte ce le ha tutte sia reb che tutto qualunque cosa va bene usciamo dalla combat facciamo augure di bolas scred va bene passiamo lui ha ancora 19 in tutto questo quello è un problema enorme e lui ha ancora 19 va bene swamp peschiamo brainstorm mettiamo in cima 1 mettiamo in cima 2 facciamo augure di bolas prendiamo hydroblast prendiamo hydroblast facciamo fuori questo reordain commodoro questi sono tutti e due forti li prendiamo entrambi 2 danni e sperando anche questo turno lui non veda l'ira di dio so che ha visto pochi cascanti quindi a un certo punto dovrà pur pescarli va bene da un bel po' di risorse gliele abbiamo fatte andare ok 1 2 3 4 commodoro ok e questo è anche un 5 2 che quindi è buono e attacchiamo solo di starter dal prossimo turno picchiamo con un sacco di cose ok peschiamo ash barren vabbè questa vuol dire togliersi due terre dal mazzo non fa nulla se non fa nulla noi abbiamo usato 3 scredge questo qua è l'ultimo e hydroblast va va bene uccidiamo il visionario facciamo non abbiamo abbiamo soltanto più le sandstorm poi dopo però non importa cioè 1 2 3 ghast una terra la facciamo e attacchiamo con questi non un pezzo ce lo teniamo indietro per poter parare eventualmente il ok stutter eventualmente il pirata infatti che casca red elemental blast su dovrebbe tirarla qui sopra e io tiro stat e yeldo e boh non credo abbia troppo senso attaccare a questo punto per lui augure di bohlas girami qualcosa risculpt la prendiamo va bene e a questo punto tanto mi dovrà parare questo attacchiamo con con tutto direi se para questo comunque gli passano altri due danni però mi deve uccidere il pezzo più forte con trampol che non sta sotto cannonata gli passerebbero due quattro cinque sei sette otto danni andrebbe a uno ok e passiamo forse forse riusciamo a dirgli gg e chiudere in 4-1 questa lega 1-2-3 pulso murasa sul boarding party torna a 7 questo è pesantuccio boarding party e casca e casca chainers edict ok morto questo che torna come 3-3 quindi questo vuol dire un danno aggiuntivo ok ok pulso murasa è stato molto forte come pescata sta attaccando blocco di bolas e ci faccio un riscontro sopra e concede pam 4-1 molto bene molto bene molto bene molto forte riscult molto molto forte perché di base in tante spot come questi puoi andare a saccarti il pezzo cioè bloccare saccarti il pezzo metterò un 4-4 che è un po' per il gigantesco tante volte sballa i blocchi forte contro aggro non mi è dispiaciuto proprio per nulla bene solite info aggiuntive trovate lo schedule degli eventi dell'oblivion team con tutti gli eventi programmati sulla piattaforma viola e su youtube vi ricordo se trovate interessanti questi contenuti iscrivetevi al canale lasciate un like e vi aspetto al prossimo video e vi aspetto a tutti i nostri vi aspetto a tutti i nostri